A volte noi siamo coinvolti in questa visione pessimistica e in questo qualunquismo nel generalizzare tutti questi elementi positivi che abbiamo in Italia e dobbiamo invece ripensare e riconsiderare questi aspetti fondamentali che ne fanno oltre l'orgoglio del nostro paese anche un benefit da punto di vista economico molto importante e rilevante. Come proteggere il design e il brand che rappresentano senza dubbio l'espressione più elevata dell'eccellenza del nostro Made in Italy. Se ne parla nella monografia dal titolo Brand Industrial Design Made in Italy, la tutela giuridica, curata per le edizioni Giuffre dall'avvocato Aldo Fittante. Il volume è stato presentato nella libreria Salvemini nel capoluogo toscano alla presenza della senatrice Alessandra Bencini del Partito Democratico e di Patrizia Pompei, presidente della terza sezione del Tribunale delle Imprese di Firenze. L'incontro è stato moderato da Roberto Messina, giornalista e scrittore. Nel libro tre settori fondamentali, il marchio in quanto tale e la giurisprudenza sul marchio, il design industriale e la terza parte che è stata aggiunta inedita il diritto d'autore ai tempi del web. L'avvento di internet e del web ha un po' rivoluzionato il nostro modo di vivere, di operare, di fare impresa e quindi questo diventa un elemento fondamentale capire quali sono il senso e il dovere del web. Quindi di un'area senza limiti territoriali, senza limiti di accesso, nella quale poi si vanno a utilizzare contenuti, foto, video e quindi tutti i beni tutelati dal diritto d'autore. Naturalmente la normativa è da completare perché sono elementi innovativi che ancora non sono stati sufficientemente governati dal legislatore. Però noi tracciamo nel libro sia queste esigenze ma sia le soluzioni più adeguate da introdurre in questo settore. È un libro anche molto bello perché valorizza quello che è ormai uno dei valori più importanti per l'Italia e cioè la creatività. La creatività intellettuale è che noi siamo un paese che non ha molte ricchezze del tipo petrolio o materie prime ma sicuramente abbiamo il nostro ingegno, la nostra creatività e possiamo sicuramente lavorare su quelle per un ritorno economico, per una valorizzazione a livello economico. Molti marchi italiani costituiscono veramente il perno dell'economia o pensiamo un po' anche adesso, così faccio un riferimento ad un'ordinanza che è stata proprio pronunciata da poco dal tribunale proprio di Firenze sulla tutela del David di Michelangelo, dell'immagine del David di Michelangelo e questo ci rende evidente come abbiamo un patrimonio proprio storico, culturale da sfruttare, da valorizzare, insomma le idee valgono e il caso di tutelarle. Quello che mi fa piacere e che è venuto fuori qui dal dibattito è l'ordinanza che è stata fatta sull'uso dei nostri beni artistici e l'appropriazione di altri paesi che li usano per poi fare dei loro gadget oppure stamparli sulle magliette o su biglietti e quindi vendere queste nostre immagini di beni culturali senza poi dare nessuna royalty al nostro paese e che noi li abbiamo, li dobbiamo comunque mantenere, tenere vivi. Di conseguenza credo sia giusto che vengano pagate delle royalty da parte di chi fa un uso dei nostri beni culturali. Quindi benvenga l'ordinanza e speriamo poi si trasformi in un disegno di legge per il territorio nazionale.